24 febbraio 19 aprile, buonasera, meno di due mesi alle elezioni cantonali e queste elezioni porteranno una novità, di là di tutta la contesa e tutti gli scenari ipotizzabili e quello che la campagna elettorale ci sta offrendo e ci offrirà, ce n'è una molto importante, importante perché storicamente il Ticino ci ha litigato un po', cioè il voto per corrispondenza generalizzato. Prima di vedere un servizio in una realtà cantonale dove questo è già acquisito da anni, presento l'ospite Buonasera Oscar Mazzoleni, direttore dell'osservatorio della vita politica regionale all'università di Lausanna. Cominciamo da qua proprio restando sul territorio, poi vedremo l'esempio nel reportage del collega Trefogli. Qual è? Cosa c'è in gioco in questo esperimento? Un esperimento serio perché poi i risultati contano. Beh c'è la possibilità per il cittadino elettore di dire la propria, di votare nel momento in cui riceve la scheda di voto. Una novità per elezioni cantonali, sappiamo che esiste già per elezioni nazionali, quindi di non dover necessariamente andare alle urne. C'è questa abitudine sui voti, sulle votazioni, sulle elezioni meno. L'ha detto lei, il primo passo è stato fatto alle ultime federali. Può cambiare qualcosa? Beh sì, possono cambiare diverse cose. Può cambiare la partecipazione, può cambiare il modo di intendere il voto. Può cambiare anche il fatto che probabilmente una parte della popolazione, avendo già un'opinione, voterà da subito, come accade per le nazionali e come accade abitualmente per le votazioni. Sappiamo che per le votazioni federali in Ticino il 70-80% della popolazione votante già vota durante i giorni, le settimane in cui già riceve le schede di voto. Quindi chi va poi personalmente all'urna è una piccola minoranza. E quindi cambiano anche un po' i parametri della campagna elettorale, visto che si potrà votare già da tre settimane prima di questa data che è segnata come il 19 aprile, giorno dei risultati. Allora appunto, voto per corrispondenza generalizzato che c'è in tutta la Svizzera da anni. Il Ticino arriva per ultimo e dopo chiederemo a Mazzolini come mai si arriva per ultimi. Gli scettici della prima ora, questa è una realtà, stanno comunque sempre di più scemando, sono sempre di meno. In alcuni cantoni il tasso di elettrici e di elettori che spediscono la scheda è superiore al 90%, un dato piuttosto significativo. Nel canton Voda, dove parte il nostro reportage, per esempio, da quando è possibile votare per posta, si è anche constatato che il tasso di partecipazione è decisamente aumentato. Però si fa già il passo oltre, già si guarda e preme il voto elettronico. Guardiamo. Dans le canton de Vaud, c'è la prima fois qu'on peut voter par la poste. Le vote par corrispondenza semble porter ses fruits. Sono passati 12 anni dal voto per posta generalizzato. Vincent Grandjean allora c'era già. Proprio in questa sala vide il governo vodese convincersi della bontà della decisione. Negli anni 90 l'elettorato del cantone romando segnava il primato svizzero della diserzione delle urne. D'un botto con la possibilità di votare ed eleggere per posta, il tasso di partecipazione è aumentato del 10%, una quota che in questo ultimo decennio siamo riusciti a mantenere. Spedire la scheda di voto. Il canton Vaud ha esitato parecchio prima di fare il salto. Più a lungo hanno tentennato solo il Vallese e, ultimo in ordine di tempo, il Ticino. Non era la paura di imbrogli o frodi. La diffidenza vodese era verso il cambiamento, perché c'era un attaccamento forte alla tradizione del voto alle urne la domenica. Canton giura due mesi fa. Fiumi d'inchiostro per la vicenda dei due cittadini condannati per frode elettorale. Avevano truccato decine di schede. Magi sospetti e indagini in questi anni si è parlato anche in una mezza dozzina di cantoni, caso più eclatante a Bienn con la condanna dell'ex consigliere nazionale Riccardo Lumengo. Nessuna sorpresa, quindi, se non tutti si sentono tranquilli. A Lausanne incontriamo chi guida il fronte degli scettici. Chiedono di tornare al solo voto alle urne in attesa di una garanzia di totale sicurezza. Degli osservatori elettorali, proprio qui nel Canton Vaux, tempo fa avevano notato qualcosa di sospetto nel quadro di un'elezione, ma non avevano potuto controllare da vicino. Ma anche da altri comuni abbiamo ricevuto segnalazioni di procedure dubbiose, malgrado la presunta trasparenza e il controllo, casi per cui ci siamo posti qualche interrogativo. Funziona davvero tutto per il verso giusto. Per il gruppo Vera Democrazia, per esempio, un punto debole è legato alla lettera consegnata per posta con giorni d'anticipo al seggio elettorale. Seggio dove si separa la carta di legittimazione firmata dall'elettore dalla bustina gialla che contiene il voto. Ammettiamo che il voto sia un doppio no. Ebbene, qualche malintenzionato potrebbe sostituire la busta contenente proprio il doppio no con un'altra esattamente uguale, ma con l'espressione di un doppio sì. Altro dubbio, in caso di sospetta frode, un'indagine grafologica su una croce risulterebbe più problematica che non su una parola. Vorremmo che fosse introdotto un sistema di controllo, un numero di identificazione legato alla scheda di voto che, in caso di dubbio, permetta a ognuno di verificare fino alla fine se il proprio sì, il proprio no o il proprio candidato sia stato registrato in modo corretto. In pratica il rischio di frode è quasi inesistente. Il luogo dove sono depositate le schede è conosciuto da alcuni giurati che si sorvegliano a vicenda. Dunque non c'è alcun rischio che una di queste persone possa da sola entrare nella cassaforte per sottrarre i documenti di voto. Autorità dunque tranquille, tanto che ormai da una dozzina di anni la Confederazione testa il voto elettronico, ad esprimersi via internet per ora solo gli svizzeri all'estero. Importantissimo, qui sì che il destino del proprio voto è verificabile. Questa traccibilità è importante per dare la possibilità alla persona che vota di valutare che il suo voto è stato trasmesso in maniera corretta. Ciò vuol dire che non c'è stato modificato né sul computer né poi in internet. E questo aumenta la fiducia degli elettori nel sistema di voto elettronico. Voto elettronico che per l'appuntamento federale dell'8 marzo sarà testato per la prima volta da ben 14 cantoni. Ma si tratta sempre ancora di sperimentazioni concesse dal Consiglio federale che non ampierà l'esercizio civico virtuale finché la sicurezza non sarà garantita. Diversi spunti e piuttosto interessanti ma vorrei partire da un aspetto storico-culturale Oscar Mazzoleni. Perché il Ticino arriva per ultimo? C'è un aspetto anche un po' curioso, a metà degli anni 90 si è votato e si è bocciata questa possibilità. Oggi arriva in sordina e il canto Ticino si troverà ad applicarla. Beh, anzitutto c'è un ricordo storico su il modo in cui si faceva politica nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, dove ogni voto contava e si sapeva chi votava cosa, dove il galoppinaggio era un sistema abbastanza arrodato in molte realtà del cantone. E questo retaggio, questa memoria, questo ricordo evidentemente è continuato e ha avuto un impatto ancora a metà degli anni 90. Il timore è che utilizzando questo sistema alcuni partiti potessero avvantaggiarsi di quello che si potrebbe fare con questo sistema, cioè dei brogli sistematici eventualmente maggiori di quanto potrebbe accadere con il sistema tradizionale. Ma oggi il voto per corrispondenza del generalizzato, quindi anche per le elezioni, è in realtà anche in Ticino. Allora a che fine hanno fatto queste paure? Beh, secondo me è cambiato prima di tutto la configurazione del sistema dei partiti in Ticino. C'è più pluralismo, più partiti significa maggiore controllo incrociato, maggiore potere di deterrenza. I singoli partiti possono temere che se mettono in atto questo tipo di pratica possono essere denunciati più facilmente dagli altri. E poi c'è il ruolo dei mass media, c'è il ruolo dei social network oggi, che evidentemente possono da un giorno all'altro far scoppiare qualche bubone, qualche scandalo nei confronti di comportamenti ritenuti illeciti, evidentemente questo accanto alla magistratura. Oggi in qualche modo la società è cambiata e si è più disposti ad accettare questa sfida rispetto al passato. Il canton Volo, abbiamo sentito, era fanellino di coda per quel che riguarda la partecipazione e l'ha aumentata, aprendo a questa possibilità. Il canton Ticino invece ha una forte tradizione di partecipazione sulle elezioni. Nonostante questi due opposti, ritiene che anche in Ticino ad aprile la partecipazione aumenterà proprio grazie a questa innovazione? Secondo me no, almeno sulla base di quello che conosciamo per quanto riguarda le votazioni federali. Noi vediamo che le medie non cambiano rispetto a prima di quando si dovevano andare le urne. Il sistema ormai adesso è una quindicina di anni che funziona, sappiamo che la partecipazione rimane attorno a quello che era nel passato, salvo evidentemente alcuni picchi. Tutto può succedere. Di certo il canton Ticino è già uno dei cantoni dove la partecipazione alle elezioni è tra le più alte e quindi dubito che l'impatto sarà decisivo per un aumento ulteriore. In breve, pensa che diminueranno magari le nulle perché non c'è la tensione di essere dentro la cabina del seggio e si può fare tutto tranquillamente a casa? È possibile, è possibile che anche l'elettore abbia più tempo, la possibilità di riflettere meglio sulla sua decisione di voto e quindi anche magari degli errori che possono essere evitati. Tocchiamo in pochi secondi prima di concludere l'e-voting, il voto elettronico. Si sente oggi, informiamo anche noi di stare attenti sulle carte di credito, di quanto vengano clonate, rubati i dati, eccetera, eccetera. Perché un voto elettronico dovrebbe garantire segretezza e assenza di brogli o di confusione da parte di qualche furbo che vuole intormettersi nella rete informatica? Oggi siamo ancora in una fase di sperimentazione, la tecnologia rende possibile ma anche sappiamo benissimo quanto rischio di brogli, diciamo i limiti di questa tecnologia. Sappiamo che è possibile però sappiamo anche che come sempre per le carte di credito o altri mezzi di pagamento o altri, sappiamo benissimo quanti rischi ciò comporta. Non siamo ancora al momento, almeno così le autorità svizzere reputano, non siamo ancora al momento di implementare in modo sistematico questo sistema. Grazie mille Oscar Mazzoleni e se il voto elettronico non è ancora pronto per la sua fase cruciale, quello che è pronto è il sito speciale per le elezioni della RSI, lo trovate a www.rsi.ch barra Ticino 2015, un sito ricco di opinioni, commenti, tutto quello che concerne una campagna elettorale. Dateci un occhio che troverete sicuramente qualcosa che interesserà anche voi. Chiudiamo la pagina del voto e torniamo alla cronaca e torniamo a Cristiano Romelli, arrivederci. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.